a pesaro un nuovo regolamento per il decoro del centro storico in curia in zona mare un campo sportivo completamente dimenticato le cipolle di urbania annunciano il meteo del 2022 slitta il tour dei maneskin erano attesi a pesaro il 18 marzo benvenuti al nostro telegiornale di oggi martedì 25 gennaio in apertura parliamo del nuovo regolamento a pesaro per il decoro urbano del centro storico si tratta di un regolamento unico nel suo genere che vieta l'apertura di determinate tipologie di attività nelle vie centrali della città di contro sono previste alcune agevolazioni come incentivi all'imprenditoria giovanile ma vi spieghiamo al meglio di cosa si tratta in questo primo servizio dopo lunga gestazione il comune di pesaro ufficializza il suo nuovo regolamento comunale per il decoro urbano del centro storico un regolamento che pur attenendosi al rispetto della legge nazionale mette alcuni paletti alle liberalizzazioni finora adottati solo da pochi casi in italia come i centri di arezzo e savona un regolamento che vuole amplificare la qualità e la diversificazione dell'offerta commerciale del centro vietando l'apertura di certi tipi di attività nel cardo e nel decumano ovvero da via branca via rossini dalla piazza a via san francesco al corso zone in cui di fatto non potranno più essere aperti bazar etnici centri scommesse compro oro lavanderia gettone carrozzerie sexy shop internet point o distributore automatici attività comunque consentite nelle vie secondarie una porta che si chiude per aprirne altre che caratterizzino e arricchiscano l'offerta commerciale del centro è il primo comune che porta avanti con coraggio insieme alle associazioni di categoria questa iniziativa è un'iniziativa che riguarda solo il cardo ed ecumano del centro storico maggiormente dove vengono limitate alcune attività di compro oro di scommesse oppure ci sono attività che riguardano i bazar e per il resto invece del centro è anche un modo per incentivare le vie secondarie durante il lavoro fatto di questi mesi insieme all'associazione di categoria si è pensato di valutare questa soluzione anche perché la legge ce lo consente dove ci sono aree storiche storiche comunque culturali o per un discorso ambientale si possono prendere delle misure da parte di un comune e adottare dei sistemi che portino alla valorizzazione del prodotto enogastronomico e l'artigianato locale. Limitazioni che saranno bilanciate da agevolazioni specifiche per aprire nuove attività. Per le nuove imprese che vogliono aprire abbiamo pensato a delle agevolazioni dei canoni calmerati adesso faremo tutti una volta votato in consiglio comunale faremo gli incontri con le varie agenzie immobiliari per aiutare nuove imprese a entrare nel mercato e dare supporto soprattutto all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile. Nuovo regolamento applaudito dal sindaco Matteo Ricci che ha reputato il provvedimento un salto in avanti di qualità coerente al lungo processo di riqualificazione di palazzi storici del centro per il quale il comune sta ottenendo finanziamenti in serie. Un regolamento al quale guardano con speranza le associazioni di categoria. Speriamo, noi siamo convinti che con questo tipo di impostazione anche per il futuro si possa arrivare a ripopolare il centro storico. Abbiamo a parte Cardo e Decumano ma abbiamo anche tutto il resto del centro storico che effettivamente è un po' vuoto e con questo aggiungendo qualità, aggiungendo vetrine accese, aggiungendo persone che in città ricominciano a passeggiare, quindi a ripopolare veramente tanto la città, riusciamo anche a riqualificare e a far ripartire finalmente, nel vero senso della parola, il centro storico. Salto in avanti di qualità ma anche di diversificazione su un centro che Davide Ipaso ha reputato ultimamente appiattitosi solo su abbigliamento, biancheria e gioielleria. La diversificazione tabellare dà l'opportunità al nostro centro storico di diventare un centro commerciale naturale. Quando manca la diversificazione tabellare, ossia non ci sono le diversità proprio dei prodotti, dei negozi, io vado in un centro commerciale, non vengo nel centro storico. È questo che noi stiamo cercando di riportare, la voglia di rifare le vasche come si facevano una volta, ma non con la nostalgia. Adeguandoci ai tempi del commercio e del mercato che si sono nettamente diversi da quelli che erano 30 anni fa, però ridare il lustro al centro con una diversificazione tale che dà l'opportunità a tutti di entrare nel centro e comprarsi la pasta fresca, comprarsi un paio di scarpe, prendere i pantaloni, andare a fare le macchinine per i bambini, giochi per i bambini o altro. Questo è quel che noi stiamo cercando di fare. Ce la faremo? Secondo me sì, l'unica cosa è che non dobbiamo andare contro una legge nazionale, ma ridare l'opportunità di incentivare determinate attività che purtroppo nel centro non ci sono, di dire io nel centro ci vado perché commercialmente è appetibile e anche economicamente ce la faccio. Decoro urbano che passa anche per la pulizia di strade o luoghi spesso trascurati. Questo è il caso della segnalazione che ci è arrivata qui in redazione a Rossini TV che vi vogliamo mostrare in questo servizio di Edoardo Razzi. Tra gli obiettivi elencati anche in occasione degli ultimi stati generali di midterm, il sindaco Ricci ha annunciato l'esigenza di mantenere la città di Pesaro ancora più pulita. Tanta manutenzione, tante segnalazioni, per questo noi oggi di Rossini TV ci troviamo qui in Viale Trento, nel campetto di Viale Trento, a causa di numerose segnalazioni arrivate da voi telespettatori. Il campetto da basket, infatti, come potete notare dalle immagini, presente in alcuni punti una situazione di degrado, dove si intravedono numerose cartacce, bivacchi e tanta plastica. Tra le diverse problematiche denunciate, buona parte di queste nascono dal mancato rispetto di alcuni ragazzi nei confronti delle regole da seguire. Di fronte all'ingresso dell'impianto sportivo, infatti, sono presenti i classici bidoni per la raccolta differenziata fornita da marche multiservizi, non perdonando dunque il nocivo gesto compiuto, che se ripetuto può dar vita ad uno scenario come questo. Ricci, a inizio anno si è posto l'obiettivo di una città più pulita e per raggiungere questo risultato sarà necessario maggior buonsenso da parte dei cittadini e più rispetto per l'ambiente in cui si vive. Una situazione che può migliorare anche grazie al vostro intervento di voi cittadini attraverso la nuova applicazione del rifiutologo. Marche Multiservizi ha infatti creato un'app che permette ai cittadini di poter segnalare attraverso una foto il rifiuto ritrovato. Una volta scattata, la foto viene georeferenziata e di conseguenza Marche Multiservizi può intervenire sul posto smaltendo il rifiuto trovato. Vi invito comunque nuovamente a inviarci le vostre segnalazioni anche al numero di redazione di Rossini TV. Noi saremmo pronti ad accendere le nostre telecamere per cercare di risolvere problematiche come questa. Ed ora passiamo al consueto spazio dedicato all'andamento della pandemia sul nostro territorio. Dai contagi ai ricoveri salgono tutte le cifre ma soprattutto i decessi. Ben 11 morti contagiati da Covid-19 registrati oggi infatti nella regione Marche. Decessi di età compresa fra 60 e 98 anni. Altro numero enorme anche per i contagi. 7.806 nelle ultime 24 ore su un altrettanto massiccio numero di tamponi processati, ovvero più di 31.000. I casi nella provincia di Pesaro Urbino sono 1.980. Crescono di 4 unità i ricoveri nelle Marche salendo a quota 354. Salgono di 5 invece i pazienti in terapia intensiva. Ora se ne contano 59. Ed ora passiamo alla cronaca e parliamo di due operazioni da parte dei carabinieri. La prima avvenuta di fronte alla stazione ferroviaria di Pesaro dove la squadra mobile con il nucleo cinofili ha controllato e identificato una trentina di persone. Nell'occasione un 24enne guineano disoccupato ha tentato di eludere il controllo precipitandosi al vicino Bardiana. I carabinieri quindi lo hanno bloccato nel bagno del locale sorprendendolo a scaricare sostanze stupefacenti nel gabinetto. Perquisito gli sono stati trovati addosso 21 grammi di hashish e un coltello di 18 centimetri. Dopo le perquisizioni il ragazzo è stato accompagnato in caserma e denunciato. Ed è stato identificato l'uomo di 34 anni originario dell'Argentina residente a Rimini che la scorsa settimana ha rubato dalla chiesa di Osteria Nuova una somma di circa 100 euro dalla cassetta delle offerte. Gli atteggiamenti inconsueti del ragazzo in chiesa hanno attirato l'attenzione del prete che ha chiesto spiegazioni. L'uomo si è però frettolosamente allontanato in macchina e il parroco ha deciso di contattare i carabinieri di Montecchio. La videosorveglianza ha aiutato gli agenti a risalire all'identità del sospettato nel giro di 24 ore riconoscendo il volto di un pregiudicato che ora dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato. Ed ora una comunicazione di servizio perché scade domani il termine ultimo per accedere alle decine di posti messi a disposizione nel nostro territorio dal servizio civile universale. Servizio civile rivolto ai ragazzi fra i 18 e 28 anni. Vi spieghiamo meglio in questo prossimo servizio. Scade domani 26 gennaio alle ore 14 la possibilità di inoltrare domanda di candidatura per un posto da operatore nel servizio civile universale. Un servizio destinato a giovani fra 18 e 28 anni che a fronte di un compenso di 444 euro mensili si impegneranno in progetti di un anno con produttivi risvolti sociali verso la comunità. Però alla vigilia del termine del bando restano ancora diversi posti disponibili fra i 36 presenti in enti e associazioni del pesarese. Si tratta di un'opportunità importante non solo nella filosofia della cittadinanza attiva ma anche nei risvolti occupazionali. Eppure c'è carenza di candidature e più che stilare graduatore ci si sta affannando nell'invitare a riempire buchi su mansioni di cui concretamente necessitano le associazioni. Si può infatti essere utili col servizio civile nelle maniere più variegate. Ad esempio ci sono nove posti messi a disposizione dal comune di Pesaro, sette in percorsi sociali di inclusione e altri due dedicati a verde e riqualificazioni ambientali. Oppure si può essere utili alla Onlus Gulliver e i suoi progetti che spaziano dal centro del riuso all'assistenza in periodo pandemico. Sei anche gli operatori richiesti per le esigenze dell'Unione Italiana Cecchi per assistere i non vedenti in percorsi di autonomia, altrettanti per quel che riguarda l'assistenza all'Aism, associazione che cura malati di sclerosi multipla. E poi altri posti nelle ACLI per attività dedicate a anziani e fasce adolescenziali, così come posti della CNA per assistenza digitale agli anziani. Oppure anche 12 posti nelle proloco della provincia per partecipare all'organizzazione di manifestazioni pubbliche. Insomma davvero tante opportunità, ma siamo agli ultimi rintocchi di lancette per aderire attraverso la piattaforma serviziocivile.it. È cominciata questo pomeriggio la seconda giornata di elezioni per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Per il secondo giorno sono presenti in Parlamento come grandi elettori in rappresentanza della Regione Marche, il Governatore Francesco Acquaroli, il capogruppo dell'opposizione in Regione Maurizio Mangialardi e il Presidente del Consiglio regionale Dino Lattini. È stato trovato l'accordo per la gestione dell'impianto sportivo Facchini di Via Togliatti a Pesaro. Lo hanno comunicato questo pomeriggio il Sindaco Matteo Ricci e l'assessore allo sport Mila della Dora spiegando come Federazione Italiana Pentatron Moderno e Casa VL hanno confermato l'impegno che mette nero su bianco il passaggio di consegne fissato per il prossimo 15 aprile. Ci sarà anche un ragazzo di Gradara nella squadra azzurra delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Si tratta di Alex Pagnini, gradarese doc di 27 anni, che farà parte della squadra italiana di Bob A4. La gara, che vedrà coinvolto Alex in Cina, si articolerà in quattro manche distribuite su due giorni, il 19 e il 20 febbraio. Domenica 30 gennaio alle ore 17 si terrà nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano la conferenza Spettacolo, aspettando l'italiana in Algeri. Ad esibirsi sarà il pianista Alessandro Lanzoni che affronterà attraverso una propria interpretazione musicale l'opera L'italiana in Algeri, in produzione al Teatro della Fortuna appunto, un'originale sperimentazione che sarà accessibile con biglietti popolari pensate al costo di un euro. E continuiamo a parlare di spettacoli attraverso i loro canali social, infatti i Maneskin hanno ufficialmente rinviato a data da destinarsi il loro tour previsto in questo anno 2022, sia quello europeo che quello nei palazzetti dello sport italiani, compreso Pesaro, dove era prevista proprio la data zero del tour. Il concerto La Vitrifriguarena della Rock Band era stato fissato prima il 27 gennaio e poi rinviato al 18 marzo, sempre a causa delle limitazioni da Covid-19. Ora c'è grande incertezza sulla definizione di nuove date, ma Comune di Pesaro e Aspes sono al lavoro per cercare di mantenere la data zero del tour anche nella prossima ridefinizione dei concerti. E come ogni mattina del 25 gennaio si è tenuto il consueto rituale della lettura delle cipolle di urbania, un'antica tecnica che offre una previsione meteorologica dei 12 mesi dell'anno appunto nella nostra provincia. E allora vediamo quale 2022 ci aspetta secondo il risponso delle cipolle. L'inverno si annuncia ancora lungo, la primavera tarderà a decollare e la siccità sarà un problema meno primente rispetto all'ultimo anno. Sono queste alcune delle previsioni meteorologiche per il 2022, appena cominciato, emerse dal barometro delle cipolle di urbania. Come ogni notte fra il 24 e il 25 gennaio, Emanuela Forlini, depositare di questa antica tradizione durantina e di questa tecnica di previsione meteorologica, ha interpretato il rituale della lettura degli spicchi di cipolla e il loro scioglimento del sale su di esse. Una tradizione tramandata di generazione in generazione che suggerisce una previsione del meteo sul territorio provinciale mese per mese. Cipolle che dunque dicono come gennaio e febbraio continueranno a impennare temperature rigide e non mancheranno altre precipitazioni nevose. Un inverno che avrà una prolungata appendice su marzo, mentre la primavera stenterà a decollare in un aprile che si annuncia molto piovoso per poi destinare a maggio un mese di bel tempo costante. Partenza a rilento anche per l'estate con un giugno variabile, prima di un trimestre fra luglio, agosto e pure settembre tipicamente estivi. Si città meno opprimente anche grazie a un ottobre o novembre in cui le piogge non mancheranno. Dicembre si annuncia più rigido dei precedenti ma senza neve. Si chiama Faro della vita l'innovativo progetto di inclusione sociale che unisce sport, scuola e disabilità sviluppato dall'associazione piattaforma solidale assieme alla federazione Pentathlon. Progetto che il 28 gennaio proporrà un seminario nella sala del consiglio provinciale e che vi illustriamo in questo prossimo servizio. Tra l'altro vi ricordo insomma che proprio in questa data del 28 gennaio ci saranno anche le telecamere di Rossini TV. Lo sport può essere uno dei più efficaci veicoli di inclusione sociale. Ne è convinta piattaforma solidale, associazione da anni presente sul territorio provinciale a difesa dei diritti delle persone con disabilità e nel monitoraggio delle loro esigenze. Un lavoro di piattaforma solidale che da mesi ha trovato convergenza con la federazione Pentathlon e con la società sportiva ASD Futura con le quali è stato attivato un innovativo percorso di inclusione fra sport e scuola. Un progetto che venerdì 28 gennaio si svilupperà a 360 gradi nel seminario dal titolo Il Faro della Vita. Seminario che si terrà nella sala del consiglio provinciale a Pesaro in una giornata che dalle 9 e 15 indagherà e svilupperà strumenti e attività per uno sport inclusivo. Il progetto ha uno sfondo sociale prima di tutto e parte dal presupposto di includere i ragazzi con disabilità all'interno dello sport per poi arrivare in un futuro a dargli anche una possibilità e una visione dello sport parolimpico. Ci siamo ispirati a delle proposte che sono state fatte nel nostro territorio. Il Faro della Vita vuol dare un segno di inizio anche per il Pentathlon moderno. Ovviamente io e Massimo Domenicucci ci siamo incontrati tramite una mia carissima amica Sara Domenicucci se state per iniziare questo percorso con piattaforma solidale proprio perché abbiamo visto che le persone diversamente abili hanno bisogno anche di un aiuto a livello di impiantistica perché spesso e volentieri non tutti gli sport hanno questo tipo di caratteristica per cui il seminario porterà un po' di luce verso una direzione più aperta nei confronti della disabilità. Partiremo dalla storia della chicca Mencoboni con cui inizierà e aprirà il seminario. Il Faro della Vita il seminario avrà tantissime altre visioni da una persona particolare che verrà direttamente portata lì al seminario e racconterà la sua storia. Addirittura ha fatto un film Il Faro della Vita, Rodolfo Giorgetti, poi avremo il CT della Nazionale di Pentathlon moderno. Il Faro della Vita è un progetto che viene fuori da un centro territoriale che è il quinto centro territoriale nelle Marche, in Italia ci sono 500 territoriali tra cui uno nelle Marche e sono finanziati dalla federazione Pentathlon questi progetti ed è una cosa molto importante perché ci dà la possibilità di proporlo anche gratuitamente alle famiglie. Successivamente al seminario è previsto un ciclo di incontri dedicati nelle scuole che hanno aderito al progetto. Il 28 inizia letteralmente è un progetto con questo seminario che poi continuerà con l'entrata del centro territoriale, quindi dei nostri tecnici insieme ai nostri psicologi e anche ai nostri educatori, quindi tre figure che entreranno all'interno delle scuole in determinate classi, classi che ci verranno indicate, ci sono state indicate dai vari dirigenti scolastici in cui sono presenti delle situazioni un po' più complesse, un po' più complicate. L'utilizzo dello sport sarà quello di un mezzo letteralmente per poter includere il Pentathlon e con la sua varietà delle sue cinque discipline ci rende la vita molto facile in questo senso. Lo scopo dello sport in questo caso è quello di andare a individuare quelle abilità che sono rimaste magari nascolte per tanto tempo e nel mondo della disabilità questo ha un valore fondamentale. Il disabile che si sente meglio psicologicamente affronta meglio anche la propria vita e anche il fisico migliora. Come ho spesso detto, questo significa anche un minore intervento a livello del servizio sanitario. Il disabile che sta meglio assume anche meno farmaci, accede anche meno ai servizi sanitari. Ma questo cosa significa? Significa un vantaggio enorme per tutta la società. Perché è una società che risparmia dal punto di vista economico ma acquista dei valori enormi. Persone che da entità passive diventano soggetti attivi. Da persone che assorbono reddito diventano persone che producono reddito e partecipano alla vita di tutti. E allora davvero complimenti per questo bel progetto. Appuntamento quindi al 28 gennaio e poi chiaramente i giorni a seguire potrete vederlo anche su Rossini TV. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Prima però dei saluti voglio ricordarvi la nostra prima serata. Questa sera si viaggia con la TV dei viaggi alle 21 e 20. Un bellissimo viaggio alle Maldive. E vi ricordo il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa. La rassegna stampa da lunedì al sabato siamo in diretta alle 7 e 20 ma ricordatevi anche le repliche. Quindi lo stesso programma lo potrete vedere alle 8 e 20, alle 12 e 30, alle 14 e alle 18. E poi vi ricordo che questa settimana ritorna insieme a Canestro l'appuntamento del giovedì in diretta alle 21 e 20. Gli ospiti di questa prossima puntata saranno Tyler Larson, playmaker della WL e Luigi Gresta che è l'allenatore. Vi ricordiamo che potete partecipare con noi attivamente a questo programma mandandoci in diretta messaggi sul numero che vedete di Whatsapp oppure se ci guarderete dalla nostra diretta Facebook commentando sotto la diretta. c'è la possibilità di vincere tanti premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. E ricordiamo anche questo appuntamento da voi tanto tanto richiesto la trasmissione in diretta della messa consueta della domenica e allora appuntamento alle 11 e 15 questa domenica saremo in diretta dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Montecchio. Adesso per voi c'è il meteo, noi invece ci rivediamo domani mattina alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.